la di fag è la compagna di skin degli school canansi e la coppia avrà presto un figlio la di fag è il nome d'arte di raine baron nata a toronto e principale animatrice culturale a new york è l'organizzatrice di pacino il party annuale più importante che si svolge nel corso della settimana della moda di parigi la di fag è il personaggio che nelle ultime ore ha scalato le classifiche delle ricerche su google l'artista e performer 44 n è la compagna di skin la cantante degli school canansi 54 anni il prossimo 3 agosto la coppia ha annunciato l'arrivo di un figlio sui loro canali social babby fag in arrivo presto saremo in tre ma chi è davvero la di fag scopriamo di più su questa eclettica artista la di fag è il nome d'arte di raine baron nata a toronto in canada all'epoca nota solo con il suo vero nome gestiva un negozio di abbigliamento vintage di oggetti di antiquariato proprio dal suo negozio ha iniziato un giro che l'ha portata ben presto essere la principale animatrice culturale della scena canadese sono molto note le sue feste al tempo tanto che lo scrittore canadese rn bo nel suo articolo generation bo parlava dei gay e delle lesbiche che dominavano la scena artistica della città affermando di lei che dominava il palco trasferitasi a new york nel 2006 ha assunto il nome di la di fag a new york esplode definitivamente produttrice di eventi organizzatrice delle feste più trendy e cool della città che fanno parlare tutto il mondo nella scena underground italiano conquista un posto d'onore perché tra le produttrici della festa per il lancio di toilet paper la rivista di maurizio cattelane pier paolo ferrari durante la settimana della moda a parigi organizza pacino un party che tra i più popolari collabora inoltre con la rivista paper candy magazine e 25 magazine ci amiamo e siamo fidanzate ufficialmente così skin aveva annunciato il matrimonio con la di fag lo scorso settembre non vediamo l'ora che arrivi il grande giorno adesso proprio skin e la di fag sono in dolce attesa e il primo figlio per la coppia la di fag ha scritto sei l'unica per me ti amo tantissimo sempre e comunque skin hai già stata sposata dal 2013 al 2015 con cristiana willy il loro matrimonio si è celebrato proprio in italia da quattro anni la cantante degli skunk anansi è legata all'artista neuerchese